Nella città di Mazzara del Vallo le sorprese non finiscono mai. Può capitare infatti che un'abitazione disabitata divenga un covo per malfattori. Questo è quello che è capitato ad un cittadino mazzarese che vuole rimanere anonimo, proprietario di un'abitazione disabitata, Sita, in via Abate Calia, vicino a Piazza Regina, in cui non si recava da qualche anno. Ricevuto delle lamentele da parte dei vicini di casa per probabili infiltrazioni di acqua, nella mattina di oggi è andato a dare un'occhiata per verificare se le infiltrazioni che lamentavano i vicini provenissero dalla sua abitazione. Entrando in casa non ha notato nulla di strano, fino a quando non si è accorto che mancava una stanza all'appello. Guardando bene scorge un pannello là dove una volta vi era una porta. Lo sposta ed entra in questa piccola stanza dove vi è una sua vecchia culla. Guarda meglio e scorge una grossa buca vicino la culla. L'incredibile scoperta lo ha spinto a chiamare subito i carabinieri, i quali però non avevano pattuglie da mandare e quindi l'uomo è andato in strada e ha fermato la prima pattuglia che ha trovato, cioè della polizia. L'indagine della polizia inizia alle 16 circa. Da notizie tirate con le pinze ai pochi testimoni che sono potuti entrare dentro l'abitazione, sembra che la buca sia larga circa un metro e profonda circa 7 metri. Infatti i vigili del fuoco per scendere giù hanno dovuto utilizzare due scale. Alla base del profondo cunicolo vi era un piccolo slargo di un paio di metri. Cosa le forze dell'ordine abbiano trovato sul fondo di quel buco e a cosa servisse non c'è dato saperlo. Di certo è sconcertante pensare che qualcuno si sia preso alla briga di scavare un cunicolo così profondo alla base del quale si preparava a creare probabilmente una stanza. Le ipotesi in questo caso possono variare molto. Poteva essere un nascondiglio per dare la refurtiva oppure serviva per nascondere stupefacenti o armi e chi lo sa magari si preparavano a costruire un bunker per nascondere qualcuno. Tutto questo in un piccolo appartamento posto al piano terra a 100 metri da Piazza Regina. A questo punto una domanda è d'obbligo. Cosa si nasconde nel sottobosco della società mazzarese?